Un degrado totale qua a Rosarno, vediamo che è degradata. Beh, sì, infatti non vedete com'è. Sempre così, quando li cacciano, quando no. Infatti è così utile, tutte cose per i peri. Ma città abbandonata questa qua? Ma ne vedete in strada come su, guardate. Guardate in strada come su. Non c'è nulla polizia, nulla... Nessun assistimento qua a Rosarno. Sì, ma quando non andavo sordi, quando una cosa, quando un'autore, le strade che arrivano, d'ammazziamo per i peri, i mezzi, i mezzi non durano niente quasi. Buongiorno. Abbandonata Rosarno. Non parlo, non metto lingua. Mi dovete scusare, non metto lingua. Mi vergogno di essere Rosarnese. Purtroppo ho un'età e devo stare. Non posso dire niente, assolutamente. Vi dico solo che già quattro mesi che sono a casa. Senza lavoro, gli straniere lavorano. E vi dimentico, voglio vedere che mangio. Non ha lavoro lei? No. E dove? Quindi ho due mesi da mandarina e poi mangio con il papà. Che esiste? A me gli straniere lavorano, danno casi pagati. Allora lui non sa come la pagano. E io a mezz'ora vai a prendere i figli e non ci porto qua. Vostro padre? Sì. Vostro padre non è l'aiuto solo. Ma un dia, io a me... Certo. Andiamo a prendo. Se non ci sogno io non mangiano manco i figli. Eh? E che faccio di abbandonati? Così è... Lavorano gli straniere qua? Tutti gli straniere lavorano. Tutti. 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 Invece i figli nostri. Quando vincate uno giro, canta, che campagna rosarne, per dire che non c'è uno italiano del lavoro. C'è la caccia uno con 25 euro. Io quando piglio la macchina, hai 25 euro di benzina. E la colazione, me levo, mi restano 10 euro. Chi ce leva a casa io? Ed è così, è così. Un lavoro giù per tutti gli straniere. Avevo una parola di voti che vai al comune, ovvio, se potevo fare anche una giornata. Lavoro, la urna, io non entro. Solo la spazio. Se non ci sogno io, io non potrei mai morire.